Una donna di 75 anni e la figlia sono rimaste ferite. L'anziana è in modo grave dopo essere state aggredite da un pitbull. È successo ad Acqua Formosa, il comune della provincia di Cosenza. L'animale, regolarmente detenuto e dotato di microchip, secondo quanto emerso, ha spezzato la catena che lo legava e si è avventato contro le due donne che erano entrate nella proprietà di un loro parente per fargli visita. La 75enne ha riportato delle ferite alla testa con la lacerazione di parte del cuoio capelluto e all'orecchio sinistro mentre la figlia si è scagliata contro il cane nel tentativo di liberare la madre che è rimasta ferita in modo lieve ad una mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che immediatamente hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso atterrato in un'area nelle vicinanze del luogo dove appunto è accaduto il fatto. La 75enne è stata a soccorso e trasportata nell'ospedale di Cosenza dove è ricoverata. I militari della compagnia di Castrovillari hanno avviato le indagini proprio per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'esemplare di Pitbull da quanto si è appreso è stato sottoposto a quarantena sanitaria da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza.